Siamo usciti dal nostro paese e ora non si può più ritornare. Tutti quelli che escono dai nostri paesi non tornano più. Noi siamo di quelli che non tornano e di cui si pensa in paese che siamo chissà dove, che stiamo bene e godiamo. Un giorno si dice di partire e si parte e non si misura abbastanza che questo significa non tornare mai più. Tutti vogliono partire, pensano di partire e di lasciare quello che chiamano il loro maledetto paese.